Dalla Sicilia alle Marche, la protesta degli autotrasportatori ha colpito tutto il paese. Da noi i tira hanno bloccato i caselli dell'A14 di Ancona Sud, San Benedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche. Qui lavoriamo e poi si rischia di non prendere i soldi, perché con tante aziende che non ti pagano più, Il problema è che i titolari non ce la fanno più con le spese, né a mantenere gli autisti né a mantenere i propri mezzi. Cosa devono fare? Qua ci sono famiglie che devono mangiare e qua quanto pane mangia solamente lo Stato e chi ha i poteri. A risentirne l'economia locale, con la verdura rimasta in venduta e danni all'agricoltura per 2 milioni di euro, secondo Coldiretti Macerata. Il martedì è stata la giornata un po' più critica e quindi c'è stata un po' senza ricorrere a degli accaparramenti, però c'è stata un po' più di attenzione nei confronti dei prodotti ortofrutticoli. Noi fortunatamente abbiamo una rete di fornitori locali molto vicini e sulle verdure siamo riusciti, soprattutto le verdure in foglia, le insalate, le verdure da cuocere, siamo riusciti ad approvvigionarci in giornata, quasi subito. E poi i benzinai. Sì, c'è stato un po' più di movimento, un po' più di tensione anche da parte della gente, di rimanere a piedi, anche per il lavoro, cose varie, però per il resto, grande ressa non c'è stata. Non ne abbiamo risentito in parecchi, c'è chi è rimasto senza, ma forse perché non ha ordinato preventivamente il carburante. Guarda, se volete vedere è arrivato il carburante adesso a me, l'autotreno lì, quindi io sta cosa non l'ho sentita. Alcune aziende come la New Holland e la Pieralisi di Iesi, invece, sono state costrette a fermare la produzione. Mentre i tir bloccavano le strade, le navi si sono fermate per giorni. L'ira dei pescatori parte da San Benedetto del Tronto e arriva a Roma, dove, durante una manifestazione, la polizia carica i delegati delle marinerie, cinque i feriti, tre sanbenedettesi. Il motivo principale di questo sciopero è la non possibilità di andare avanti a lavorare, perché noi lavoriamo solamente per i petrolieri, quindi ormai siamo al collasso. Non ne possiamo più, perché andare in mare, rischiare la vita, fare sacrifici enormi, con l'incasso, l'80% dell'incasso ci se lo prende il gasolio. Poi le normative comunitarie applicate dal primo gennaio, che ci hanno messo la patente a punti, che andiamo a rischiare la vita per tirare avanti, è una vergogna. La patente a punti per i pescatori è davvero un grosso ostacolo. È un po' il modello che viene trasportato dalle automobili in terra in mare. Ovviamente in mare ci sono molte più difficoltà, ma noi siamo consapevoli del fatto che, siccome le nostre imprese rispettano le regole, le vogliono rispettare e vogliono rispettare la legge, c'è bisogno anche di avere un atteggiamento non subito punitivo, ma tollerante per qualche errore, per qualche errore anche in buona fede che si può fare. Il gasolio per i pescatori incide per l'80% sui costi e ora non ce la fanno più. Lo gridano a gran voce e attendono ancora una risposta dal ministro Catania.